e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questa nuova uscita della The Sherlock Holmes collection questo nuovo libro si intitola la veneratrice di Castel Rock siamo arrivati al numero 57 la collezione è composta da 60 uscite siamo quasi giunti a termine di questa collana di Sherlock Holmes andiamo a togliere la plastica ecco qua ragazzi The Sherlock Holmes collection la velenatrice di Castel Rock bellissimo qui con il titolo rivelato in oro agosto 1907 questo è il laterale del libro qui abbiamo il retro andiamo a vedere un po' l'interno ecco qua qui cambia abbiamo la velenatrice di Castel Rock e Tibo Tib l'uomo scimmia due nuovi casi di Sherlock Holmes qui abbiamo un'illustrazione illustrato da Alfred Roloff il libro è composto da 232 pagine andiamo a vedere un'altra illustrazione qua qua molto bella e niente ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video mettete vi piace commentare iscrivetevi al canale e niente ciao a tutti belli